Oggi sono da Bulgari a scoprire la manifattura di Les Sentiers, adesso andiamo assieme a vedere come nascono gli orologi di Bulgari. Sono partito da Les Sentiers con questo bellissimo libro da consultare, arrivato alla manifattura, che in realtà è una delle tre dove vengono prodotti questi orologi, vedete che è tutta chiaramente in pieno stile Bulgari. Breve lezione su tutta la storia e l'organizzazione di Bulgari, questo è il line-out degli orologi che sono stati prodotti durante un po' tutta la storia di Bulgari, invece questo è il piccolissimo, il movimento più piccolo che hanno mai prodotto, con al polso ovviamente il nuovo Octo Roma per poi partire alla volta vera e propria della manifattura. Questo è un overview globale dei calibri che sono stati prodotti, vista proprio dove fanno tutti i prototipi, questi sono i pezzi in 3D su ogni pezzo, si lavora in modo minuzioso su ogni componente e qua invece è proprio la produzione vera e propria. Siamo partiti da macchinari semplici, componenti abbastanza grandi, platine e tutta questa serie di cose che comunque già di per sé non sono facili, per poi passare a quei componenti veramente, praticamente microscopici che vengono fatti con un sistema molto particolare di elettricità e poi questi che invece sono tutti i componenti che vengono finiti, qua vedete le Côte de Genève, queste strisce prodotte con questa macchina che ricordano il lago Le Mano e invece questo è un perlage che io ho provato a fare una volta nella vita e vi assicuro essere veramente complesso da fare, non so come questa signora riuscisse a fare. Qua addirittura vedete che sistema l'utensile e lima questa gomma che serve a fare il perlage. Io invece ho provato a fare un anglage, è stata una cosa ardua, mi hanno insegnato proprio i tecnici di Bulgari, è stato veramente divertente e questo è il risultato, fatemi sapere voi come me la sono cavata, ovviamente indossando la mia tipicissima giacca da vista in manifattura, per poi passare al reparto dove vengono assemblati gli orologi super complicati, di cui qua vedete una sorta di spaccato del movimento, non proprio. Un esempio di questi orologi è ad esempio il calendario perpetuo che vedete qua nel video e poi per finire il latelier, vero e proprio delle grandi complicazioni, dove abbiamo ascoltato questa ripetizione minuti, che potete ascoltare anche voi qua con me. Veramente qualcosa di super, grazie a Bulgari e ci vediamo presto per un altro video.